Testimonianze e contributi per ricordare l'istituzione 50 anni fa del Sinodo dei Vescovi da parte di Paolo VI. Quel camminare insieme, sottolineato da Papa Francesco, è la strada sulla quale proseguire perché è la sinodalità, il futuro della Chiesa del III millennio. Il Pontefice ricorda che anche il popolo di Dio ha il proprio fiuto per discernere le nuove strade che il Signore indica alla Chiesa e per questo il Sinodo, nelle ultime due sessioni, ha voluto ascoltare le famiglie anche attraverso un questionario. Dopo il popolo ci sono i pastori, chiamati a distinguere i flussi mutevoli dell'opinione pubblica, e infine il Papa, che si esprime non in base alle sue convinzioni, ma come garante dell'ubbidienza della Chiesa alla volontà di Dio. Il cammino insieme presuppone, secondo Francesco, il servizio verso i fratelli. I ministri devono essere più piccoli tra tutti e in questo orizzonte anche il Papa è servo dei servi di Dio. Si invitano poi le chiese particolari ad essere sempre connesse con il basso, a lavorare per una maggiore sinodalità nelle conferenze episcopali, un percorso che può rendere la Chiesa più ecumenica e gettare sul Ministero Petrino una nuova luce, perché il Papa non è al di sopra ma dentro la Chiesa. Infine, la Chiesa sinodale può essere esempio di servizio e riscoperta della dignità dei popoli per le nazioni, chiamate a creare un mondo più bello e degno dell'uomo. Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare è più che sentire. È un ascolto reciproco, in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, collegio episcopale, vescovolo di Roma, l'uno in ascolto degli altri e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo Spirito della Verità, per conoscere ciò che Egli dice alle Chiese. Grazie a tutti.